Non si fermano gli sbarchi di migranti sulle coste italiane. Oggi Ortona, in Abruzzo, accoglie la nave Life Support di Emergency. A bordo ci sono 161 persone soccorse in mare, tra cui tre donne incinte. A dare le proporzioni dell'emergenza, il confronto con i numeri dello scorso anno, nei primi tre mesi del 2022 erano sbarcati 6.543 migranti, tanti quanti ne sono giunti solo negli ultimi cinque giorni. Il totale degli ingressi dall'inizio dell'anno, dicono i dati del Viminale, è di 27.000 arrivi, il quadruplo rispetto allo stesso periodo del 2022. Numeri enormi a cui il sistema dell'accoglienza fatica a fare fronte, mentre resta aperto lo scontro tra governo e ONG, accusate di ostacolare le operazioni di soccorso e costrette a seguire le norme più stringenti del decreto piantedosi. Altro fronte caldo, quello di Roccella Ionica in Calabria, qui solo negli ultimi quattro giorni sono arrivati 1.500 migranti, gli ultimi 650 approdati autonomamente a bordo di un peschereccio partito dalla Libia e sfuggito ad ogni controllo. Solo le cattive condizioni del mare stanno invece rallentando in queste ore gli sbarchi a Lampedusa, al centro della rotta che parte dalle coste tunisine. L'hot spot è sovraffollato, le onde e il vento forte hanno bloccato anche i trasferimenti organizzati dalla prefettura di Agrigento. Mentre l'Italia sollecita una risposta comunitaria e cerca una sponda nei paesi africani per frenare le partenze, continua il lavoro sul territorio per contrastare le organizzazioni criminali. L'ultima a Ventimiglia, dove sono state arrestate 16 persone con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. L'operazione è stata gestita dalla polizia di frontiera insieme a quella francese e ha messo in luce ancora una volta le terribili condizioni di chi affronta questi viaggi.